Sindaco Perazzetti, il Covid ferma dall'Etna al Gran Sasso ma non ferma questo gemellaggio che anzi si rafforza per questo importante ventennale, il gemellaggio con Nicolosi? Assolutamente sì, proprio questo Covid ha fermato la manifestazione dall'Etna al Gran Sasso ma non ha fermato assolutamente l'unione che unisce le due comunità che si rafforza oggi con la firma nuovamente del ventennale del gemellaggio e auspichiamo soprattutto un prolungamento di questo gemellaggio con nuovi progetti che sveleremo più tardi con i due sindaci che daranno le prospettive future che le due comunità oggi danno per poter proseguire questo gemellaggio che ha portato tanti frutti sia per Nicolosi che per gli angolani. Noi abbiamo alcune zone della nostra città che hanno peculiarità della regione siciliana così come la regione siciliana, così come la città di Nicolosi ha delle peculiarità nostre quindi questa permeabilità delle due culture deve continuare assolutamente. Quindi diventa più che maggiorenno un gemellaggio che è iniziato nel 2001, che è iniziato dapprima con un incontro delle confraternite che è stato portato avanti devo dire greggiamente dai sindaci precedenti che si sono succeduti in queste cose Il Covid purtroppo ha dato una botta d'arresto non solo alla manifestazione ma anche un po' all'economia di tutti i nostri paesi, le due cittadine però ciò non toglie che abbiamo cercato di mantenere quello che è lo scambio culturale, i nostri prodotti tipici Questa mostra che vediamo è un po' il simbolo della vostra terra, uno dei simboli della vostra terra Quello che vedete invece è la pietra lafica ceramizzata che è un prodotto del maestro Babbo Messina, anche la tecnica di ceramizzazione e poi è anche un prodotto della nostra scuola di ceramizzazione con le allieve che ogni anno producono e vedono di andare verso un obiettivo artistico differente per non essere sempre ripetitivi Sì è stata un'ottima occasione per tornare a Città Sant'Angelo, invito tutti quelli che possono da oggi per una settimana a venire qui oltre a scoprire o a riscoprire se lo conoscevano già un borgo autentico tra i più belli d'Italia c'è questa mostra che espone una novità, una novità particolare poco conosciuta di ceramica fatta su pietra lavica con dei colori molto vivaci, molto gioiosi, una ricerca anche molto raffinata sull'identità etnea e sulla storia, le tradizioni del luogo, come sposare bene le tradizioni con i materiali del posto e quindi per una terra come l'Abruzzo che è anche terra di ceramiche prestigiose questo scambio culturale e questo gemellaggio è quanto mai opportuno